Voi non capite, Brando è un bravo ragazzo. Tina, è figlio di un magistrato, lo capisci che brutta gente. Tina, ma tu forse non l'hai capito, noi lo facciamo nel tuo interesse. Ma prima non ti potevo mettere con un bello pregiudicato come fanno tutte le ragazze del quartiere? Evidentemente lei ha altri gusti. Tina, papà, tu mi stai spezzando il cuore. Si dovrebbe il suo nonno, no? Ma quando è che sei diventata una persona così... così... ben bene? Tina, ma ti ricordi quando papà per farti addormentare ti cantava le canzoni di Pino Mauro? Ma la vita... Io a Pino Mauro non ho supporto. Gesù, Giuseppe, Sant'Anne e Maria. Tina, mamma, ma che dici? E allora quando le cose stanno così tu non riesci più? Tonino, ma che stai dicendo? Ma per cortesia, da oggi in poi non riesci più, no telefoni e niente in denne. Ma tu sei pazzo! Comando io, sono tuo padre. Nonna! Tonino! Mamma ti assaggia, non esci più! Io ti odio, vi odio tutti e mi vergogno di appartenere a questa famiglia! Tina! E tanti sbregati, non faccio i messeneggiati! Che caccia fa, padre? Mi dice che ha detto su Pino Mauro. Hai sentito o no? Scuono! Scuono perché è questa famiglia! Pino, e donala perché non c'ha quello che fa!